com'è anche oggi spiaggia qui a pallombina beach sta passando il treno ovviamente sono le 7 30 giornata leggermente nuvolosa spiaggia possiamo dire tutta per me visto che non c'è quasi nessuno se non qui il mio amico e coach m pronto per la sua corsa eccolo lì lui è già bello pronto io invece sincronizzo e faccio partire il mio i watch 321 ciao ragazzi buona corsa ci si vede al traguardo